E' un'idea premiata dal Bando Socialmente Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio che vede i protagonisti, i giovani di Saturnano, che vogliono sistemare alcuni sentieri che sono in stato di abbandono. Si tratta dei vecchi sentieri di collegamento tra aree del Botro, Ferriere e Mulino, e l'area di Nelle, Mulini, lungo il corso del torrente Piestro. I sentieri saranno ripuliti ripristinando anche piccole frane e sarà realizzata un'area picnic aperta a tutti. Al lavoro si mettono i giovani che hanno partecipato al Bando, affiancati da paesani con esperienza in questo tipo di interventi. Sì, in pratica siamo venuti a conoscenza di questo progetto e siccome anche durante questi anni un po' turbolenti abbiamo iniziato un po' a passeggiare per questi sentieri che prima erano più percorsi da anche gli abitanti di qua, ci siamo interessati a questo progetto e abbiamo pensato tutti insieme di riportare alla luce questi sentieri che un tempo erano percorsi quasi quotidianamente, erano più agibili di adesso. L'obiettivo era quello di ripulire le zone, come già detto dalla mia amica prima, in modo da poterci andare con le gite che venivano fatte qui a Saturnana, dato che venivano i bambini dell'asilo di Piteccio e San Felice a visitare il museo, comunque a fare pranzi al circolo e in questo modo possono anche riscoprire la zona vecchia del paese e potersi collegare ad altre zone. Questo progetto anche come scopo è quello di far arrivare anche da fuori di questo paese gente per far conoscere questo piccolo paesino che comunque nel suo piccolo ha delle piccole bellezze naturali, tuttavia che nel tempo sono state abbandonate. I luoghi sono da sempre i protagonisti dei racconti dei nostri genitori, dei nostri nonni, degli zii, però noi ragazzi nati nel 2000 non li abbiamo veramente vissuti, quindi con questo progetto possiamo far rinascere questi luoghi e farli conoscere a noi, riscoprirli e a altre persone.